Scusate Se vi dice che è in tezzo, li credo. Non è questo. Abbiamo i medici. Dobbiamo difendere i nostri cammini. Lui non si è potuto far curare. Lo metteremo. No, no, lo forzeremo. Non fatelo. Siete ospiti nel nostro campo. Abbiamo recuperato i loro uomini. Non lo infetterà tutti. Potere inferniciosi. Amelie, arrivati. Alla larga, alla larga. State lontani, signori. Chi è a costruire? Lontani. Lo purificherò col fuoco. Allora bruciatelo, no? La vostra fietà vi è imbarazzante. State indietro, il medico farà questo. Voi non poterete fare questo. Lo giusterete. Conoceglieci. Questo essere potrebbe infetterà l'intero accampamento. Ma non lo farà. Alla leghe leghe. Ma non lo farà. Il medico ci dirà. Il medico si infetterà a sua volta. Un infetto che significa? Il cazzo è andavattì alla fine. Diasprio! Cosa abbiamo detto che andava abbattito? Com'è? Per il meno arginiamo. Andava abbattito. La loro pietà. Diasprio! La pietà di sciaglia è richiesta qua. Dopo abbiamo deciso di separarlo da questo corpo che lo sta conducendo alla vita. No, almeno che no. Guardalo, figlio, guardalo. Gli insulti dei poteri perniciosi. Non hai paura che possa accadere a te, a tuoi cari? Non lo so se mi insulti dei poteri. No, è infetto prima di parlare. Ma questo mi insulto alla vita. Ma questo è geruffiaghe. Guardatelo, scoprite, lo previsitelo. Abbiamo chiamato il medico, nonché devota sciaglia. Figliolo Montoscarlo! È più esperto di voi in malattie. Io, indubbiamente, non ho visto l'opera, conosco il suo dolore. Sappiate che l'uomo che ha sotto le mani ha apertamente dichiarato di essere un effetto da un morbo. È l'uomo che lo sta curando. È legato ai poteri perniciosi. Non toccatelo, allontanatevi. Un malato non poteva combattere come ha combattuto. Nulla di trasmissibile. Nulla di trasmissibile, va bene. Non trova malattie. Ma toccatelo. Non toccatelo! È un veicolo per i poteri perniciosi. Non è truccato. Non è truccato. Non è truccato. Stavo il fire! No, l'altro. Non è truccato. Padre Theobald, ci sono delle regole in questo campo. Dice che non è contagioso per...